Grazie mille. All'ultima conferenza nazionale di statistica abbiamo avuto il grande onore di avere il Presidente della Repubblica. Oggi abbiamo il grande onore di avere, come mi è stato detto prima, Daniele, il Presidente della Repubblica, persona non numero, che è entrato nella ricerca dalla parte degli intervistati e che porta qui almeno la loro voce diretta e quindi ho doppiamente il piacere di dargli la parola. Sono stato Presidente della Repubblica nel 2010, abbiamo fatto una battaglia per dare la cittadinanza a tutti senza fissa di Mora. Inoltre sono redattore della rivista Shaker e del binario 95. Ultimamente abbiamo fatto anche uno spettacolo delatrale che ha mostrato la forza dei senza fissa di Mora per uscire dalla propria condizione di sudditanza. Quello è un ruolo, è un dato di fatto. Noi lo affrontiamo serenamente e anche se i dati parlano e sono tanti, bisogna pure saperli leggere e saperli verificare. Penso che però ci siano dei passi in avanti adesso, che la situazione non sia così tragica e che un po' con l'aiuto di noi stessi, un po' con l'aiuto delle istituzioni, di riuscire a risolvere i nostri problemi. Grazie.